Ehi, facciamo una foto, primo chi viene disciplinato alla guida è claxon solo quando arriviamo perché se stiamo sette ore io non credo, secondo disciplinati andiamo piano, poi non mi parlate di interrogazioni parlamentari a depositare mentre stiamo alla guida che io non posso, ora facciamoci tutti una bella foto ragazzi, allora tutti qui dietro, con le moto con i caschi, da lì verso qua, forza mettetevi qua qualcuno che fa lì un voto, Aspettate, i selfie dopo, qualcuno che le va a fare lì, venite nuovo qui Aspettate, anche da un po' più lontano così vi vengono sposti Aspettate, anche da un po' più lontano così vi vengono sposti Ragazzi, la creatura è qua, con i caschi, mostriamo i caschi Oh guarda qua, oh Ragazzi, anche più lontano perché tanta gente sono qui Il casco ti fa ombra nel viso, cogli il casco Oh grazie Grazie Avvi Stefano, vieni pure tu in foto, Stefano, vieni qua, mettiti con me. La ponte ci c'è, la ponte ci c'è, va a te, a posto, ragazzi andiamo. Allora guardate, fermi tutti disciplinati, Stefanino, lui è il nostro capo moto, per cui è lui che fa l'andatura. Grazie signora. Sì, vieni via. Sì, vieni via. Quella dove iniziò senta. Esatto, bravo. Ma che è una figata. Allora, iniziamo a lavorare per te. Allora, iniziamo a lavorare per te. Eccoci. Allora, aspetta, dov'è la signora? Vado dalla signora, arrivo. Ottio che casca, aspetta a te. Sì, ciao. Sì, c'è la pallina. Sì, la pallina. Laura, quanto spendi di benzina? Zero. È elettrico. Vai. Energie rinnovate. Pannelli solari. E io dico no al referendum su una costituzione. buona giornata. Ciao. 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 E' la mia di là. Ciao. E' andata a parlare con una signora. E' sparuto. però se riuscissi a parlare con una signora dentro grazie Grazie. Una via, una piazza, uno largo. Una via, una via, una via, una via. 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 Una via. Una via, 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 una via.